Presso la sala stampa di noto del Palasicheli Archivi, questa mattina è stato presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi il nuovo capo allenatore dell'Orlandina Basket, Andrea Mazzon. Insieme a lui il patron Enzo Sindoni, che gli ha dato il benvenuto e ha partecipato alla conferenza stampa. Le energie di Andrea Mazzon emotive sono solo una parte, non la principale delle sue qualità, la sua carriera parla per lui, il suo percorso parla per lui, ma soprattutto parla per lui l'entusiasmo e il coraggio con il quale ha accettato questa nuova sfida. Domenica alle 17 al Palasicheli Archivi, di fronte alla Betaland Capodorlando, ci sarà una delle squadre più in forma del campionato, la Open Job Metis Varese di coach Attilio Caia e dell'ex Mario Delas. Sappiamo che la situazione è difficile, sappiamo che è tutto molto complicato, sappiamo che tutto è appeso a un filo, mi sembra ovvio, quello che ha detto il Presidente è chiaramente la realtà dei fatti, però sappiamo anche che tutti noi abbiamo una possibilità e come ce l'avranno gli altri ce l'abbiamo pure noi e noi stiamo qui a lottare per quella possibilità. Siamo lì, è ovvio che ci servirà una grande spinta emotiva da parte di tutti, ci servirà energia positiva, io credo molto nell'energia, sembrerà una cosa un po' ridicola ma credo che quando si è tutti positivi le cose buone arrivano. Io ho detto ai giocatori, io sono arrivato qua, io ancora devo perdere, sono undefeated, non ho ancora perso una partita, quindi io ho zero sconfitte, alcuni di loro ne hanno due, tre, Adam ne ha una e altri ne hanno insomma qualcuna di più, però insomma quindi ho detto cioè quello che è stato fatto prima non conta, siamo tutti a zero ora e come sai quando cancelli la lavagna.